Hai capito? E adesso mi insegna che cosa deve ascoltare papà Sei vecchio, deve ascoltare il padre E mi fa ascoltare Rosalba ad libitum, ad libitum proprio Senza fermarsi E ci sono poi anche altre canzoni che ascolta Corriamola che stavo ascoltando l'altro giorno Che mette in mente tante altre cose Vabbè Io farei un salto al 2015 Visto che ne abbiamo parlato prima Perché il libro di Fatti Avanti Amore Mi sembra che sia stato qualcosa di eccezionale Quindi è giusto parlare Sì, il clip è molto semplice in realtà La regia di Gaetano Morbioli Un grandissimo regista italiano Di clip storico anche In realtà qua vi dice la semplicità E quindi lascia spazio più alla forza della melodia fondamentalmente Quindi è proprio uno di quei clip Al servizio della canzone secondo me E allora al servizio di questa gente Vediamo Fatti Avanti Amore Ok Ok Ok